ok Vellena parti pure allora Giancarlo ti ringrazio esperta in questa materia no sono un po' autodidatta poi mi appoggio molto a chi ne sa perché poi alla fine io credo che ognuno debba riconoscere i propri limiti e bisogna appoggiarsi a chi ne sa veramente in queste materie poi che sono anche molto scientifiche stasera noi gli diamo anche un taglio un po' più ampio però poi bisogna capire di cosa si parla. Io porto anche i saluti di Vittore Soldo il nostro segretario che non può essere presente questa sera perché aveva un impegno lavorativo e quindi ci seguirà l'incontro registrato poi. Allora io vado subito a sollecitare alcune riflessioni e parto da Don Antonio ok? Quindi la serata di stasera è una serata appunto incentrata sulle sollecitazioni che Papa Francesco ha fatto iniziando otto anni fa oramai sono già passati otto anni con la Laudato Si che è un testo era un testo molto impegnativo molto corposo circa duecento pagine c'erano dentro tantissime cose allora a otto anni a distanza dalla Laudato Si Papa Francesco riprende in mano ancora l'argomento della crisi climatica con un'apostolica un testo molto più breve ma secondo me è estremamente efficace poi proprio perché è breve forse riesce ad arrivare più velocemente ad un pubblico anche 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 più ampio la sollecitazione che ci fa Papa Francesco è in sostanza ad otto anni siamo ancora qua che stiamo parlando della crisi climatica ci sono un sacco di tematiche legate alla crisi climatica in termini di salute di lavoro di accesso alle risorse abitazione le migrazioni forzate sono un sacco di cose ancora oggi vediamo fenomeni di negazionismo allora io le chiedo donne di farci una riflessione su questo appello che Papa Francesco fa per la tutela della nostra casa comune va bene buonasera a tutti mi sentite sì sì benissimo sono un po' rauco ma sono i mali di stagione quindi grazie dell'invito anche perché per noi è sempre almeno per me è sempre interessante parlare discutere percepire la sensibilità su questi temi che a volte non è così viva dentro l'ambiente ecclesiale a volte c'è in linea anche la Carla Bellani con la quale siamo molto amici e spesso riflettiamo sulla fatica che fanno a volte anche i credenti ad accogliere questa indicazione di Papa Francesco anche perché mettono un po' crisi un modello di vita un modello culturale un modello economico e quindi toccano dei punti sensibili che facciamo fatica poi a correggere perché toccano anche degli interessi personali o globali o corporativistici allora questo nuovo documento appunto che è un'esortazione apostolica laudate Deo è organicamente collegata al laudato Si che viene citata dal Papa se non ho contato male ben 19 volte quindi il discorso capite è quello cioè è portare avanti un discorso con la cura della casa comune come diceva appunto il titolo della laudato Si perché sia all'interno della Chiesa ma soprattutto il Papa guarda alla realtà politica la realtà economica globale e questo tema non non entra se non a parole dentro la dinamica delle decisioni politiche dei popoli infatti il Papa stesso nella laudate Deo dice che ne sarà della nuova COP 28 a Dubai lui ci andrà e ci andrà proprio per portare un po' la sua provocazione e per spuotere un po' con le coscienze tant'è vero che parla nella laudate Deo della necessità di un pungiglione etico di voler risvegliare la sensibilità delle comunità delle persone ma la sensibilità della politica che potremmo dire noi anche dell'economia su queste tematiche che a parole ci interessano ma che poi in pratica non non vengono prese in considerazione proprio perché dicevo prima toccano interessi personali e globali che nessuno vuole toccare e questo poi uno dei discorsi fondamentali che il Papa fa sia nella laudate Deo dove dice che l'impostazione economica basata sulla ricerca del profitto fine a se stesso nel minor tempo possibile è ciò che determina molte volte e questo lo diceva anche bene nella laudato sì determina il non rispetto del creato la distruzione dell'ambiente e le situazioni emergenti di gravi eventi critici per la natura e per le persone che abbiamo sotto gli occhi per di più in questi otto anni se non ho capito male appunto il Papa dice è intervenuto questo aspetto negazionistico per difendere il discorso è sempre quello interessi particolari di tipo economico si è introdotto questa specie di virus chiamiamolo così per cui si dice ma no sono cose che sono sempre capitate la natura è così non è colpa nostra io lo sento dire anche da diversi parrocchiani a volte ma in buona fede dicono ma no ma don Antonio ma vede ma no ma no la nostra colpa si se c'è però è minima invece il Papa dice no la nostra colpa è maggioritaria in questa situazione di distruzione del paese di crisi appunto climatica per cui il Papa ecco ci ci dà questo pungiglione etico e ci dice ma cari miei a che punto siamo nella difesa di questa casa comune che diventa poi anche la difesa dell'umanità perché noi siamo interconnessi e legati con tutto quello che abbiamo intorno a natura è la base vitale della nostra esistenza se continuiamo così andremo incontro a una distruzione maggiore e dell'ambiente e delle famiglie e delle persone che ho visto in questi ultimi sono sei mesi oggi dall'alluvione che è avvenuta in Emilia Romagna con tutti i danni e la fatica a riprendere la situazione quindi il discorso è molto serio il Papa sembra quasi un po' arrabbiato in questa esultazione apostolica e ci dice forza uomini di buona volontà chiaramente lui si rivolge anche ai credenti l'ultimo capitoletto è sulle motivazioni spirituali della difesa dell'ambiente però la lettera dice proprio così l'esultazione è un'esultazione dedicata e indirizzata a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica e quindi ci invita a non avere paura ci invita a denunciare le situazioni che ci sono di difficoltà di distruzione del pianeta di cementificazione di tutto quello che voi volete e sapete meglio di me come esperti tenendo conto che questo però dovrebbe entrare anche dentro la dimensione politica di cui lui nota ancora come nella laudato si la grande debolezza e perché la politica è debole lo dice spesso nei suoi discorsi perché è sottomessa all'economia è sottomessa alla finanza grossi e grandi interessi che nessuno vuole toccare perché fa comodo così per cui ci va di mezzo il pianeta e ci vanno di mezzo anche i più poveri nella laudato si e lo dice anche nella laudate deum dobbiamo ascoltare il grido della terra ma anche il grido dei poveri perché la distruzione del pianeta porta un ulteriore impoverimento e diceva al numero 49 della laudato si appunto una cosa interessantissima su questo aspetto diceva il Papa oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri non è facile sempre tenere vivo questo legame ma per il Papa è inscindibile il grido della terra e il grido dei poveri come un unico grido che chiede di rivedere il futuro di rivedere lo stile di vita personale di rivedere le scelte economiche di rivedere la politica di rivedere la partecipazione di rivedere tutto in funzione di un futuro che non sia di morte o distruzione ma almeno di mitigazione e di riparazione dei danni che già abbiamo inferto alla madre terra ricordiamo che poi concludo il Papa viene dall'America Latina quindi ha questa forte sensibilità ecologica ricordiamo che l'anno scorso ci sono state 177 vittime di ambientalisti diciamo di cui 122 in America Latina 60 in Colombia quindi capite che difendere l'ambiente dalla quella terra lontana a cui lui accennava quando è stato nominato a Papa c'è davvero anche una sofferenza concreta un martirio della della difesa della terra che molti pagano con la propria vita ma la pagano convinti che bisogna difendere i poveri o meglio gli impoveriti e la terra che per noi cristiani è dono di Dio e che per tutti gli uomini di buona volontà esige un impegno etico di cambiamento di trasformazione di revisione di un modello politico culturale politico economico e finanziario è un bel compito grande difficile ma anche entusiasmante che deve vedere cristiani e tutti gli uomini dicevo di buona volontà insieme in questo impegno di trasformazione e di cambiamento sempre più necessario della nostra realtà globalizzata e qui ho detto tutto grazie grazie don Antonio allora io prendo spunto proprio da da una parte del suo discorso per fare una riflessione con Mario Agostinelli allora nel terzo capitolo della Laudate Deum il Papa parla proprio parole molto dure ma molto chiare della debolezza della politica internazionale cioè si intitola proprio così il terzo capitolo dell'Apostolica e si rivolge ovviamente parla di debolezza della politica internazionale si rivolge in particolare ovviamente ai paesi più ricchi quindi all'Europa agli Stati Uniti e io mi sono segnata alcune alcune sollecitazioni dirette che il Papa fa proprio ai politici intanto li accusa di un'assenza di un'azione coordinata a livello ovviamente internazionale con azioni concrete per affrontare la crisi climatica parla di compromessi insufficienti sono parole proprio molto molto dure facendo riferimento alla COP o alle conferenze su clima cioè lì dice avete raggiunto i compromessi però poi dopo alla fine in poche parole non li avete non li avete messi in pratica quindi mancanza di meccanismi di responsabilità e di rispetto degli accordi mancanza di responsabilità nell'azione dei leader politici e un richiamo alla cooperazione internazionale che esce spesso nella apostolica mi sono segnato una frase in particolare del terzo capitolo che è l'appello che Papa Francesco lancia i leader politici e dice ai potenti oso ripetere questa domanda perché si vuole mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire quando era urgente e necessario farlo ecco Mario con te volevo fare questa riflessione poiché tu sei stato anche consigliere Regione Lombardia sei esperto in tematiche ambientali all'interno di tante commissioni ambiente come vedi ecco questa sollecitazione di Papa Francesco io ho trovato tutto sommato drammatico la sfasatura tra l'ardore con cui questo vecchio interviene un futuro che diventa sempre più ravvicinato per quanto riguarda i drammi che può portare e la sfasatura tra questa sua preoccupazione e sostanzialmente la scarse lo scarso rilievo che è stato dato è sparito dalla i giornali non ne hanno parlato la televisione ha continuato a parlare di tutt'altro e mentre questo messaggio ha un taglio molto drammatico insomma io provo adesso a dire un paio di riflessioni non praticante però dico anche in un circolo del PD ma è straordinaria l'occasione di avere una voce così autorevole nel mondo dei credenti che può attraversare il futuro della politica e di questo si lamenta il Papa dice ma come avete così tanto potere e lo usate per fare le guerre lo usate per fare una sconvolgimento della uguaglianza sociale nel mondo e lui di fatti ritorna continuamente a parlare non solo dell'ambiente ma della povertà che segue l'ambiente cioè non solo viene distrutta la natura ma viene distrutta anche la base sociale su cui la convivenza dovrebbe costruire le sue avere aperte le sue prospettive ecco io ho provato a fare uno sforzo di questo tipo credo sia la prima volta che un Papa descrive la vita in una maniera completamente diversa da quella che ad esempio ho imparato anch'io perfino quando andavo all'università nessuno mi aveva mai parlato del rapporto che ci sarebbe stato tra natura le sue risorse e la vita il futuro nostro imparavo a costruire macchine potentissime a utilizzare prodotti di sintesi catalizzatori però la vita e questo miracolo che accade dopo dieci miliardi di anni da Big Bang e il Papa lo sa e lo dice dite guardate che la vita è una cosa straordinaria che viene dopo un insieme di cosmogenesi infinite in cui noi non c'eravamo cioè noi la creazione e tutta l'evoluzione fino ad avere presenti coscientemente degli osservatori questa questa storia non l'abbiamo potuta se non ricostruire adesso attraverso la scienza e il Papa di fatti fa un'operazione un po' straordinaria sul piano del rapporto tra fede e scienza cioè accoglie fino in fondo e in questo è forte la sua battaglia contro il negazionismo accoglie fino in fondo i risultati della sperimentazione e poi cita direttamente i punti di crisi massima di crisi di non ritorno così parla dice siamo a punti di non ritorno ecco io vorrei appunto rendermi conto del fatto che la novità della presenza umana sulla terra è di avere una coscienza e di essere dotata di libero arbitrio e quindi di poter influire sul futuro anche sulla base di quello che è successo prima quindi non cancellando la memoria e non pensando semplicemente che il futuro sarà espansivo e credo che in questo senso trovi il Papa dell'America Latina un punto molto critico ma insomma voi europei e voi dell'America ricca avete delle responsabilità più grandi di quelli che ne soffrono invece maggiormente e poi fa un riferimento guardate una frase brevissima in cui dice i poveri subiscono di più i poveri le donne e i lavoratori domani c'è uno sciopero generale cioè i lavoratori sono particolarmente colpiti dal fatto che la loro vita la loro salute perdono di senso di fronte allo scenario straordinario che ci mette davanti il Papa noi dovremmo lavorare usare le nostre intelligenze le nostre forze per salvare il pianeta per mantenere la pace per evitare di cadere nella esplosione davvero non più frenabile che corre verso le armi nucleari ecco quindi il Papa è una persona straordinaria che riesce a mettere insieme tre emergenze che mai l'umanità ha avuto di fronte e a farne un atto di come si può dire pragmatica relazione sociale cioè lui dice voi potenti voi partiti voi giovani voi dal basso quindi anche il vostro circolo in questo senso no pensate che non abbiamo più tempo il tempo viene a mancare ecco a me sembra questo un messaggio molto molto forte che viene confuso cioè io se apro la televisione a quest'ora e penso a tutti quelli che danno audience in questo momento alle notizie troverei che questo messaggio continua a non attraversarci abbastanza e chiudo su questo ma è un bel problema anche per i cattolici credo cioè il Papa interviene dopo otto anni e dice oh io avevo parlato di questa cosa e noi dove stiamo in questo contesto quindi io credo che così il messaggio che viene lanciato è un messaggio di grande anche amore verso l'umanità però anche di disagio rispetto a come l'umanità continua a guardare altrove grazie mario allora anche qua mi leggo a una riflessione che hai fatto tu tu ad un certo punto hai detto questo di hai parlato di questo rapporto tra fede e scienza che emerge più volte all'interno sia della laudato sì ma anche della laudate deum e voglio fare questa riflessione con Davide perché adesso scendiamo e andiamo nei dati scientifici è abbastanza emblematico che Papa Francesco il primo capitolo dell'apostolica la crisi climatica globale lo dedichi proprio a parlare dell'origine antropica del cambiamento climatico ma lo fa in una maniera davvero scientifica nel senso che parla chiaramente dell'origine umana antropica quindi di questo cambiamento quando affronta per esempio il discorso del gas serra parla di dati cioè scientifici reali quindi c'è l'oltre il 42% delle emissioni nette e totali dal 1850 è avvenuto dopo il 1990 poi affonda sul discorso della temperatura globale che è aumentata di 0,15 gradi centigradi passa anche oltre all'atmosfera a parlare degli oceani dei mari e quindi ti chiedo una riflessione su questa su questa cosa cioè lui è molto chiaro dicendo attenzione ci sono questi dati scientifici che nessuno guarda pare che non esistano questa cosa del negazionismo e spinge a fare una riflessione profonda sul prendersi in carico della responsabilità che è l'uomo alla fine la causa di questa crisi climatica sì devo dire che io ho apprezzato molto questo modo di agire cioè per la prima volta ho visto una figura così importante prendere una posizione netta nei confronti di un problema che è stato portato alla luce dalla scienza ricordo già dagli anni 80 del secolo scorso cioè si è cominciato a parlare di global warming intorno al 1980 85 circa e oggi siamo ancora qua a discutere se è di origine antropica oppure no cioè lo sappiamo già da da 30 anni che è di origine antropica e ne stiamo discutendo ancora adesso e stiamo cercando di convincere qualcuno che sia così piuttosto che diversamente io non non mi trovo tanto d'accordo sul il titolo che è stato dato alla conferenza di stasera perché provocazione secondo me il Papa non si è spesso provocando ma si è espresso mettendo in luce e in risalto in modo strettamente fortemente evidenziato quella che è una problematica di cui la scienza discute da un sacco di anni la prima cosa che ho fatto leggendo la laudate deum che è l'integrazione diciamo un'aggiunta rispetto alla laudato sì che io personalmente avevo considerato troppo leggera per quanto riguardava l'intervento climatico in questo secondo intervento invece mi trovo pienamente d'accordo la prima cosa che ho fatto è stata andarmi a vedere la bibliografia da cui ha attinto per parlare di clima e la bibliografia è di assoluto primo piano è andato a prendere i dati della NOAA è andato a prendere i dati dell'EPCC che sono i dati climatici dell'ONU e voglio ricordare che il report dell'EPCC è la sommatoria di tutte le conoscenze scientifiche più aggiornate di ogni anno cioè quando esce questo report che è di innumerevoli pagine mette insieme tutti gli articoli scientifici più attendibili che sono usciti durante l'anno precedente in pratica per cui è il report più aggiornato in assoluto quindi non è andato a prendere diciamo delle notizie così spicce bensì si è andato a documentare sui migliori report che ci sono in circolazione e questo ha prodotto delle informazioni di carattere scientifico estremamente precise che finalmente sono state portate alla luce una delle difficoltà più grandi che trova la scienza e soprattutto il mondo accademico è proprio quello di avere un trade union tra il suo mondo il mondo accademico che è pressoché chiuso diciamo e i cittadini la gente la gente comune un po' viene colmato dalla divulgazione scientifica questo gap diciamo questo linguaggio troppo tecnico che i cittadini non riescono a comprendere viene colmato un bel po' dalla divulgazione scientifica ma una presa di posizione così importante da parte di una figura tra le più importanti al mondo in assoluto è dal mio punto di vista estremamente estremamente positivo non provocatorio ma chiaro mette in luce il fatto che siamo in queste condizioni la politica non si sta adeguatamente muovendo parlo della politica internazionale ma anche nazionale userei dire non si sta muovendo in questa direzione anzi sta cercando di giocarci dentro nel senso di fomentare diciamo degli ambiti negazionisti si cerca appunto del tempo per dei diciamo delle soluzioni che sono dei pagliativi cheppure vanno nella direzione di sostenere un comparto economico che è lobbistico e che non è in realtà ciò che servirebbe oggi all'ambiente un'altra cosa da sfatare secondo me estremamente importante è il fatto che la crisi climatica va combattuta rinnegando quello che è stato il nostro progresso scientifico in particolare in ambito industriale non è assolutamente così cioè non dobbiamo rinnegare ciò che è stato fatto fino ad ora semplicemente ci siamo accorti da un po' di tempo che questo progresso scientifico deve cambiare rotta deve cambiare direzione cioè la produzione di questa di questa economia non deve essere solo ed esclusivamente di denaro ma deve essere anche di benessere e il benessere non può essere solo temporaneo ma deve essere proiettato nel futuro quindi deve essere un progresso che diventa lungimirante che diventa ormai ci siamo dentro in pieno quindi che diventa resiliente anche quindi dobbiamo riprenderci i nostri spazi il nostro ambiente il nostro ecosistema è la salute pubblica e quindi deve lavorare io ho un termine che è il molto di moda oggi ma che è secondo me fondamentale deve stare al centro che è sostenibilità cioè il tutto deve diventare assolutamente sostenibile dal punto di vista ecosistemico altrimenti non ne usciamo e le prospettive di peggioramento climatico sono assolutamente evidenti quando prima mi hai chiesto Velleda è reale appunto che sia un'influenza antropica quella che sta determinando il cambiamento climatico attuale sì lo è lo è e ci sono numeri che lo testimoniano anche facilmente in questi ultimi mesi in particolare sei mesi sto seguendo una tesi di laurea e mi sto occupando appunto di documentarmi di fare raccolte dati per la pubblicazione di un nuovo volume che riguarderà le evidenze di cambiamento climatico nella bassa pianura padana per quale motivo ho deciso di fare una roba del genere e di dare una tesi di questo tipo perché quando l'informativa climatica passa a livello mediatico soprattutto televisivo è sempre riferita a cadimenti che avvengono lontani da noi cioè se parlo a qualsiasi cittadino che trovo per strada gli chiedo rappresentami con un'immagine della crisi climatica mi parlano di un osso bianco sopra il ghiaccio che si scioglie oppure del crollo magari di una falesia di ghiaccio in Antartide quindi un qualcosa che sta accadendo al pianeta ma è estremamente lontano e che non ci riguarda siamo quasi a sue fatti da questa mole di notizie che ci stanno arrivando e quindi ho deciso di mettere in luce alla gente appunto del territorio quelle che sono le evidenze climatiche qua da noi vi do qualche numero nel corso di 30 anni ho preso 30 anni perché è il parametro minimo per valutare il clima di un luogo di un territorio quindi la serie di dati minima 30 anni se fossero di più sarebbe anche meglio però come minimo 30 diciamo in 30 anni nella bassa cremonese per esempio si sono persi 139.000 metri quadrati di aree umide parlo dell'elanche del Po da che cosa è stato determinata questa cosa da un innalzamento costante della temperatura e dalla presenza o meglio dal livello dello zero termico che ormai è perennemente sopra i 3000 metri sotto i 3000 metri non c'è più un nevaio che si scioglie in primavera il fiume Po in primavera non va più in piena dal 2014 perché? perché non c'è più neve a monte da sciogliere queste sono evidenze climatiche un'altra evidenza climatica su 32 bodri della bassa cremonese 16 si sono asciugati in 30 anni quindi abbiamo perso il 50% di questi picchi ecosistemi e con questi ecosistemi acquatici abbiamo perso tutta la biodiversità annessa appunto a questi ecosistemi questa è una perdita di carattere climatico il mondo agricolo che ha una grandissima responsabilità a riguardo di questa situazione di questa problematica non si sta adeguatamente muovendo nella direzione opportuna è solo una nicchia la parte agricola diciamo che si sta proiettando verso la sostenibilità e la resilienza nei confronti del cambiamento climatico ma la maggior parte insiste ancora con monoculture che vanno in una determinata direzione che è quella unica del profitto ma del depauperamento del terreno del territorio della pianura e di conseguenza fa bene il Papa a urlarlo questo e a farlo percepire perché vi sono appunto delle associazioni di agricoltore anche estremamente legate al mondo religioso che in maniera cieca diciamo seguono certe direttive promosse appunto dalla chiesa ma quando si tratta però di seguire queste direttive rivolte soprattutto a un discorso di tutela dell'ambiente dell'ecosistema e di conseguenza della salute pubblica lì non ci sentono e vanno nella direzione opposta e questo non va bene non va bene quindi non è una provocazione è un buon richiamo soprattutto basato su dei dati estremamente precisi e certi grazie Davide allora io tornerei un attimo sull'appello che Papa Francesco fa all'azione immediata e ne voglio parlare con Franco allora ad un certo punto proprio quasi alla fine della dell'apostolica Papa Francesco dice si concentra no sul sull'invito a una maggiore consapevolezza da parte da parte di tutti noi e dice gli sforzi delle famiglie per inquinare meno ridurre gli sprechi consumare in modo oculato stanno creando una nuova cultura il semplice fatto di cambiare le abitudini personali familiari e comunitarie alimenta la preoccupazione per le responsabilità non assolte da parte dei settori politici e l'indignazione per il disinteresse dei potenti quindi c'è questa sorta di frattura tra quello che può fare il singolo e nei confronti dei potenti che appunto non prendono responsabilità io credo che questa sia una riflessione importante soprattutto tu lavori molto anche nel mondo del volontariato sei a contatto con tante familiari conosci bene la società dal basso e questa riflessione come la ritrovi e come ti ritrovi in una riflessione di questo tipo cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per influenzare anche chi sta più in alto di noi nelle decisioni nel nostro piccolo possiamo fare molto a partire da una consapevolezza forte radicata e centrale sulla responsabilità dell'esercizio che però non è soltanto del singolo ma attraverso il singolo diventa coscienza comunitaria diventa consapevolezza sociale arriva ad una dimensione più ampia politicamente più segnata e delineata questo è un punto certamente al cuore di questa sottolineatura di questa esigenza c'è un problema educativo nodale decisivo su cui occorre soprattutto l'esercizio dell'ascolto nel senso che l'interpello del Papa così drammatico e così disatteso diciamolo comporta un di più di responsabilità nell'ascolto nella responsabilità attiva nello sviluppo positivo di quella che il Papa parla coscienza ecologica integrale coscienza ecologica integrale dove tu non puoi distinguere tra quella che è la questione ambientale rispetto da quella che è la questione secondo giustizia ambiente e povertà si richiamano lotta lotta per l'ambiente lotta per la povertà stanno insieme il punto centrale è quella come dire quella coscienza antropologica situata situata cioè l'uomo non è da solo quello che l'uomo fa interagisce con gli altri e deve avere un senso profondo di connessione di condivisione tu quando agisci devi pensare alle conseguenze della tua azione sempre in tutti i campi in questo e in tanti altri la vita sociale sta in piedi se questa consapevolezza c'è se questa consapevolezza è riconosciuta se questa consapevolezza diventa attiva e dentro questa consapevolezza ci sta come dire la propedeutica verso quella qual è l'orizzonte di nobiltà politica che il Papa usa in contrasto con la vergogna della politica parla di nobiltà della politica e di vergogna della politica la nobiltà della politica sta dentro questa accezione e questo direi che è una provocazione assai importante visto che è all'interno di una comunità politica che questo confronto si sviluppa e questo è un passaggio che va certamente riconosciuto e certamente attuato da questo punto di vista come dire ci stanno tutte le conseguenze le conseguenze sugli stili di vita sulla condizione dell'uso prudente considerato delle risorse che non sono infinite che sono limitate come dire quella capacità di realizzare un contenuto sobrio socialmente proponibile e socialmente sostenibile e l'orizzonte educativo come dire è una è una delle sfide è una delle sfide fondamentali vorrei fare una riflessione perché una riflessione che viene da 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 un da un'esperienza importante che ho fatto in commissione ambiente della fondazione di carico che ho vissuto per quattro anni e che è stata per me un'esperienza molto illuminante e molto feconda quando il papa raccomanda la transizione ecologica verso le rinnovabili usando una condizione ben gestita transizione ecologica verso le rinnovabili ben gestita mi è venuto in mente una strategia molto importante che è in corso che ha visto il territorio cremonese la diocesi cremonese in veste di protagonista parlo del passaggio verso le comunità energetiche rinnovabili un tema di cui si parla ancora poco perché ci sono delle bollette delle debolette di vincolo che la che la politica governativa sta ritardando a fare che innescano un processo virtuoso molto interessante molto interessante e il territorio cremonese ha dato ottimi esempi ripeto in corso di prospettiva attuativa che diventano un paradigma importante anche per il futuro e impegnano le amministrazioni locali imperano le realtà le realtà di terzo settore impegnano la consapevolezza civica nel lavorare in questa direzione le comunità energetiche rinnovabili mettendo insieme soggetti diversi sviluppano il tema cooperativo come dire la sensibilità cooperativa in direzione di un utilizzo distribuito e quindi più consapevole delle energie rinnovabili quelle che nascono dai pannelli che cominciano ad apparire anche sui sui testi delle nostre delle nostre abitazioni una prospettiva che va potenziata una prospettiva che va riconosciuta e deve diventare un po' un punto di passaggio verso il nuovo che ci attende e che ci attende con consapevolezza dal punto di vista dal punto di vista del valore raccomandato dal Papa il movimento dal basso cioè vuol dire che la società deve farsi carico di queste preoccupazioni e di queste prospettive quindi vi segnalo questa provvida iniziativa che la diocesi di Cremona ha posto in essere e cui hanno aderito diverse realtà di realtà locali insieme a realtà parrocchiali comunitarie in modo da avviare in modo mirato e ben gestito stavolta della transizione ecologica i grandi temi e poi chiudo che si raccomandano alla prospettiva di una riflessione compiuta che attiene anche indirettamente alla politica cioè quando il Papa mette a tema il rapporto fra natura e cultura tra natura e società come diceva bene prima il professor Persico il rapporto fra natura e vita queste realtà importanti queste riflessioni nodali e decisive devono diventare pane quotidiano devono diventare alimentazione forte di una riflessione e di un pensiero politico che arriva a quella che il Papa chiama la democrazia ecologica che è di più rispetto a democrazia ambientale democrazia ecologica vuol dire avvertenza vuol dire prudenza vuol dire prevenzione vuol dire ascolto dei territori questa è la democrazia ambientale che diventa democrazia ecologica che nutre dal punto di vista della virtù sociale il tema della democrazia come elemento di garanzia della società di oggi e di domani ecco queste riflessioni devono diventare pane quotidiano anche per chi si occupa di politica ho voluto chiudere un po' il cerchio raccontando anche l'esperienza in corso della realtà cremonese per dare anche un contributo di prospettiva concreta positiva nel che cosa fare di fronte alla crisi che inconde non so se ho risposto a quello che tu volevi assolutamente hai dato spunti ulteriori allora io riprendo una cosa che tu hai detto che Papa Francesco riprende appunto nell'ultimo capitolo della sua apostolica come spunto di riflessione per Carla lui parla proprio di antropocentrismo situato ok di cui parlava appunto Franco poco fa come a dire che per contribuire a questo percorso che noi dobbiamo fare anche proprio virtù di questa crisi climatica che sta che sta ovviamente colpendo l'ambiente ma non solo l'ambiente perché poi emergono tutta una serie di povertà legate alla crisi climatica che andranno sempre più peggiorando e quindi ti chiedo appunto questo impegno che lui ci chiede che Papa Francesco ci chiede come movimento dal basso come lo contestualizzi e quali sono i tuoi punti di riflessione appunto su questa cosa che Papa Francesco insomma ci butta alla fine della sua lettera apostolica molto giusto Agostinelli prima diceva rispetto alle tese le affermazioni di Papa Francesco noi come siamo situati e quindi bisogna fare subito un aggancio con la realtà e io posso dire come siamo posizionati noi come realtà di movimenti internazionali per la pace e come siamo posizionati a livello di teoria di pensiero ma poi soprattutto anche a livello di prassi perché appunto il Papa ci chiede di agire non bisogna fare solo la filosofia o l'analisi allora io parto dal principio che della laudato sia che tutto è connesso sia nel bene che nel male e vorrei sottolineare il nesso che c'è tra le armi la guerra e il clima ci sono vari studi internazionali che dicono che l'impatto delle armi e della guerra sul clima è devastante e non facciamo fatica a capirlo se noi pensiamo agli enormi bombardamenti in Ucraina e Medio Oriente altrove sappiamo che oltre a devastare il territorio emettono tonnellate e tonnellate di gas ad effetto serra infatti all'inizio della guerra in Ucraina il segretario generale dell'ONU Guterres si è rispresso in questo modo le conseguenze di questa guerra minano la gente climatica globale all'inizio della guerra in Ucraina se i paesi risponderanno all'aggressione della Russia aumentando il proprio uso di combustibili fossili l'agenda sul clima si ferma riprende questo discorso la rivista Science e scrive che la guerra in Ucraina ritarderà almeno di cinque anni o più la riconversione ecologica allora dobbiamo tenere presente che nel mondo non c'è solo la guerra in Ucraina e il Medio Oriente ma ci sono ben altre 180 guerre a intensità ovviamente differente e che sono state censite come tale dall'istituto di Uppsala che è quello che ha il compito di monitorare i conflitti nel mondo e quindi il danno che recano le emissioni di tutte queste guerre le emissioni di CO2 è incalcolabile e non si può neanche quantificare perché i dati sull'inquinamento militare sono ovviamente coperti da segreto militare però dobbiamo dire che questa questione è arrivata anche al tavolo della COP di Glasgow nel 2016 portata avanti da un gruppo di ricerche internazionali COBS Conflict and Environment Observatory che è collegata a varie università e quindi una ricerca tra università che era riuscita a dare dei dati relativi alla produzione militare di CO2 già peraltro diffusi ma che la COP di Glasgow non ha preso in considerazione e in questa ricerca che potete anche consultare in internet questa ricerca diceva che i dati che loro riuscivano a fornire erano effettivamente molto più bassi rispetto a quelli che i militari emettono perché non tutto si può censire in questo senso perché Glasgow non ha preso questa sollecitazione perché la Laudatideum al numero 35 dice che la comunità internazionale e l'avete già detto anche voi prima è debole nel reagire alle sfide climatiche globali perché è dominata da interessi di parte non dal criterio del bene comune globale e questo lo dimostrano anche i fallimenti delle COP sul clima le COP internazionali sul clima però sempre il numero 35 di Laudatideum Francesco dice che di fronte allo stallo della politica internazionale ci sono tante aggregazioni e organizzazioni della società civile che aiutano a compensare le debolezze della politica internazionale la sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse la sua carenza di attenzione rispetto all'ambiente e ai diritti umani Laudatideum dice che c'è un multilateralismo che nasce dal basso fatto dai corpi intermedi di diversi paesi che si coalizzano e ottengono i risultati politici ecco vorrei proprio esplicitare questa affermazione di Francesco con un esempio significativo nel 2021 è entrato in vigore il trattato ONU di proibizione delle armi nucleari che si prefigge di eliminarle dalla faccia della terra prima Agostinelli citava l'importanza anche di di una di un disarmo nucleare questo trattato ecco è proprio il classico esempio perché è stato costruito diciamo dalle reti di società civili globali che si sono riunite nella campagna ICAN e che sono riuscite ad ottenere questo risultato politico una campagna che poi è stata insegnita nel 2017 dal premio Nobel per la pace proprio per questo suo lavoro incessante e costante ancora oggi ICAN è attiva ancora oggi è la società civile globale mobilitata per eliminare le armi nucleari perché sono le più devastanti in assoluto e lo fa per salvare il clima e poi anche perché sappiamo che il nucleare diciamo può annientare l'umanità per capire questo do un minimo ancora di contesto oggi nel mondo ci sono 12.500 atomiche pronte per l'uso in Italia nelle basi militari di Giedio e di Ariano ne abbiamo almeno una quarantina di bombe ultima generazione B61-12 molto più potente di quella lanciata a Hiroshima e quindi diciamo siamo su un terreno minato perché tutti i trattati per contenere e controllare le armi nucleari o sono scaduti o sono stati dismessi per esempio il trattato di non proliferazione il trattato START e il trattato INF sta ritornando a galoppo il riarmo nucleare nel mondo anche in Europa vengono installate nuove basi nucleari in Polonia e in Bielorussia vediamo che il nucleare è stato sdoganato come arma tattica e il suo impiego è stato minacciato più volte nel conflitto in Ucraina e ultimamente anche per la striscia di Gaza bene in questo quadro di riarmo atomico e di fronte una situazione internazionale particolarmente delicata e rischiosa per le guerre in corso il nostro governo non ha ancora sottoscritto il trattato di proibizione delle armi nucleari molto grave e non partecipa non ha neanche partecipato alle conferenze degli stati parte anche se non ha sottoscritto il trattato come hanno fatto altri stati che pur non avendo sottoscritto hanno partecipato anche come osservatori anche perché in queste conferenze si è trattato del problema umanitario conseguente ad eventuali attacchi atomici e il nostro governo non era presente per questo allora centinaia di associazioni italiane si sono riunite nella campagna Italia Ripensaci con una serie di iniziative di pressione dal basso per solicitare il nostro governo a sottoscrivere il trattato ONU Italia Ripensaci attiva anche sul nostro territorio e c'è una rete di realtà sociali associative che operano a Crema a Casal Maggiore e a Cremona l'ultimo incontro l'abbiamo fatto ieri sera al teatro Monteverde sul tema nucleare e finanza allora lavorano come lavorano entrano nelle scuole sensibilizzano i comuni perché Italia Ripensaci ha come obiettivo quello di sollecitare i sindaci a deliberare il sostegno di questa campagna e poi a far pervenire al governo la notizia che loro hanno deliberato tantissimi comuni l'hanno fatto sul nostro territorio provinciale l'ha fatto Crema Cremona e gli altri comuni non si sono mossi anche se sollecitati per esempio dalla Diocesi che ha scritto ai vari sindaci singolarmente chiedendo di muoversi in questa direzione concludo Primo dobbiamo prendere atto che l'emergenza del climate change è anche emergenza armi e guerra quindi se vogliamo salvare il clima dobbiamo impegnarci per il disarmo e per la pace e a nostro avviso la grande priorità è il disarmo nucleare Su questo obiettivo però dobbiamo dire che la società civile ha soltanto un ruolo sussidiario a quello della politica un ruolo di spinta e ce lo ricorda al numero 38 Laudate Deum se i cittadini non controllano il potere politico nazionale regionale e municipale non è possibile il contrasto ai danni ambientali ed è questo che coi nostri mezzi come società civile impegnate cerchiamo di fare in prima istanza però non dimentichiamo che le questioni e le decisioni su armi guerre e ambiente competono alle responsabilità della politica a tutti i suoi livelli fermare le guerre la corsa a riarmo anche nucleare restano gli obiettivi primari politici imprescindibili se si vuole salvare il clima grazie Carla allora io ora chiedo a Stefania di tirare le conclusioni finali di queste riflessioni e mi permetto di riprendere una una sollecitazione che è uscita proprio all'inizio di questa serata da parte di Don Antonio ma è uscita poi più volte da parte dei redattori c'è un capitolo nel capitolo secondo c'è un paragrafo che proprio si intitola il pungiglione etico ok e ovviamente Papa Francesco sollecita e affronta tutte le tematiche che sono relative alla decadenza etica del potere e quindi della politica in sostanza nelle scelte sulla crisi climatica alla fine di quel capitolo intanto a metà dice sono costretto a fare queste precisazioni che possono sembrare ovvie a causa di certe opinioni sprezzanti e ragionevoli che trovo anche all'interno della chiesa cattolica come diceva come diceva Don Antonio all'inizio e questo capitolo si chiude dicendo qual è il senso della mia vita qual è il senso del mio passaggio su questa terra qual è in definitiva il senso del mio lavoro e del mio impegno allora appunto perché c'è sempre questa critica che è forte che viene fatta nei confronti della politica e noi rappresentiamo in sostanza la politica tu sei in segreteria nazionale quindi i partiti hanno una grossa responsabilità rispetto alle scelte che poi devono ricadere sui cittadini come diceva anche Carlo ci deve essere questo processo partecipato e quindi volevo che tu facessi una riflessione anche su questo certo ben volentieri allora intanto io volevo ringraziare Giancarlo di avermi coinvolto ma anche del confronto cioè devo dire che è una bella esperienza questa di una chiacchierata così intanto perché stasera come dire sono toni molto misurati e poi forse anche questa dimensione noi spesso critichiamo questa dimensione virtuale però su certi temi queste chiacchierate diventa anche molto più intima e si segue bene poi appunto chi mi ha preceduto è stato anche ricchissimo con sfumature diverse ha contribuito molto al dibattito quindi bravo Giancarlo una bella bella idea anche questa modalità sfruttare anche questi mezzi è importante è bello anche perché sono mezzi appunto poi dipende dall'uso che noi ne facciamo allora sicuramente ci sono molte molte cose da dire intanto questo è un documento la Laudate Deuma è importante capace di parlare ai laici parlare i cattolici ovviamente essendo un'esortazione apostolica quindi parla ai cattolici Papa Francesco ma parla poi ai laici a noi laici ai politici in generale e sicuramente è un aiuto appunto anche io sono dell'idea come diceva prima il professor Persico chiamarla provocazione anche a me non piace nel senso che davvero è un atto di chiarezza importante e soprattutto ha quel ruolo divulgativo che serve a rendere questi argomenti appunto di carattere generale più discussi perché il limite anche se come diceva poi Mario Agostinelli non è che abbiamo visto riempire i telegiornali però lo sforzo che si deve fare è proprio quello di quel cambiamento culturale sul quale il Papa insiste peraltro appunto non in questa serata in cui tutti i toni sono stati misurati qualcuno aveva parlato di un Papa rivoluzionario perché parlava io dico certamente un Papa coraggioso con un contributo di chiarezza che anche all'interno della stessa Chiesa come prima diceva Don Antonio non è detto che sia poi compreso o più che compreso magari attuato per tante ragioni mi sento di dire il rivoluzionario vero è stato Francesco D'Assisi che insomma sul tema della natura 800 anni fa è morto nel 1226 ha appunto fatto questa apertura straordinaria sul creato ciò che lo circonda animato inanimato fratello sole sorella luna quindi ecco bene che Papa Francesco abbia tirato fuori dagli scantinati la seconda figura più rivoluzionaria poi del cattolicesimo dopo Gesù ecco in un percorso diciamo di secoli nel quale purtroppo invece l'antropocentrismo non è stato quello situato di cui tu Velleda citavi prima e che è citato nella Laudate Deum ma è stato un antropocentrismo direi assoluto fatto di danni ambientali fatto di un'idea dell'uomo al centro e di una natura di un ambiente totalmente asserviti che purtroppo è un'idea ancora oggi ricorrente e con scia di sangue infinite mi è piaciuto e ricordo perché l'avrei fatto anch'io di Don Antonio che ha parlato dei morti i martiri dell'ambiente cioè ogni anno ci sono una media di 200 persone contadini capi di comunità indigene sindacalisti avvocati ambientalisti specie nel sud del mondo e specie in America Latina che muoiono muoiono per le battaglie in difesa del pianeta ecco quindi si battono per preservare la natura in alcune parti poi particolari del pianeta che sono molto a rischio dopodiché certamente il messaggio di Papa Francesco è attuale opportuno coraggioso anche per chi fa politica con parole semplici che potrebbero sembrare ovvie ma ovvie non sono ancora nel nostro contesto il pianeta esige rispetto il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e ha un'origine antropica giustamente Persico dice lo stiamo dicendo da 50 anni però ecco dirlo e ribadirlo è importante ci esorta contro queste forme di negazionismo ci dice che gli effetti del cambiamento climatico impattano sull'ambiente ma hanno anche un risvolto sociale infatti noi stiamo dicendo che chi sta pagando il prezzo della non transizione ecologica i più fragili i più poveri quindi ecco c'è un risvolto sociale enorme ci dice anche questa secondo me è un passaggio molto bello che il paradigma tecnocratico non è in grado di risolvere il cambiamento climatico perché le tecnologie non sono in sé un bene o un male ma vanno in qualche modo asservite a un progetto umanizzante con quell'idea umanizzante diciamo che però riguarda appunto l'uomo e l'ambiente ci dice anche che c'è una grande debolezza del potere della diplomazia internazionali e per questo anche le istanze che arrivano dal basso diventano importanti anche proprio a scuotere la politica mi pare faccia una riflessione anche molto qui ben documentata sui vari cop che ci sono stati città chioto città parigi seppure appunto con amarezza si dica che c'è stato un basso livello diciamo di attuazione poi per meccanismi di controllo di verifica periodica e anche di sanzione non adeguati poi ci sono come dire anche dei messaggi più intimi che secondo me sono importanti perché certo il ruolo della politica il ruolo dei decisori il ruolo della diplomazia però poi ci dice anche che dobbiamo superare la logica dell'apparire sensibili al problema però allo stesso tempo non avere il coraggio di fare dei cambiamenti sostanziali anche nella vita delle persone quindi anche nelle abitudini personali richiamando anche alla drasticità diciamo di questo nuovo processo che deve contare sull'impegno di tutti peraltro appunto trovate molto bella una delle frasi finali in cui si dice che non ci sono cambiamenti duraturi senza i cambiamenti culturali senza una maturazione del modo di vivere ma non ci sono cambiamenti culturali senza i cambiamenti nelle persone quindi la centralità della persona anche come motore di cambiamento cosa ne trae chi di noi fa politica ed è impegnato nella politica che certamente dobbiamo lavorare per intanto agire quindi proposte proposte di legge sensibilizzare creare una cultura alternativa allargare l'ombrello delle nostre sensibilità e qui dico cristiani e laici ricomprendendo anche l'ambiente e la natura ma appunto da subito con una virata netta perché oggi quell'antropocentrismo situato non lo vediamo ancora così diffuso in una battaglia che deve diventare trasversale e qui a me piacerebbe poter dire trasversale anche politicamente cioè di destra e di sinistra perché dobbiamo solidarizzare tutti quanti perché un ambiente malato ci ammazza tutti quanti quindi non fa distinzioni venendo ad alcuni episodi ci sono anche dei bei segnali qualche giorno fa in regione Lombardia in consiglio regionale c'è stato un voto nel quale è stata data una sfiducia a questa presidente di ARPA Lombardia Lopalo che aveva fatto delle affermazioni allucinanti soprattutto in quanto presidente di una agenzia per l'ambiente e il voto di sfiducia vedremo poi se verrà dato seguito o meno però un voto che ha in qualche modo coinvolto anche alcuni rappresentanti che siedono nei banchi della destra e questo per me è un segnale quanto meno che una sensibilità anche un po' più diffusa vi possa essere sono una ottimista ci sono però anche dei segnali negativi io oggi sono rimasta abbastanza sconvolta di quella rissa perché di rissa dobbiamo parlare dei deputati stanno manifestando sul tema delicato ma secondo me decisivo c'è una posizione del governo sul divieto dell'utilizzo dell'impegno sulle carni coltivate e vengono presi a spintonate dal presidente di col diretti che appunto con una violenza che trovo veramente allucinante e questo il tema anche della carne coltivata cioè c'è tutto il tema degli animali degli allevamenti intensivi del benessere animale c'è un tema etico che appunto riguarda il mondo animale sul quale un paese civile deve interrogarsi per il tema per i riflessi ambientali ma anche per i riflessi di tipo etico poi un altro esempio che mi sento di dire è stata la la legge europea sul ripristino della natura voi sapete che questa legge impone misure di ripristino sul 20% del territorio terrestre marino dell'Unione Europea entro il 2030 arrivando a coprire tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050 quindi diciamo ha una valenza non solo di tipo difensivo ma anche di tipo propositivo cioè torniamo indietro recuperiamo è stata votata diciamo per il rotto della cuffia nel senso che c'erano 6-7 voti però diciamo le destre si sono tutte posizionate sul fronte contrario e questo ci fa anche guardare ad esempio al prossimo appuntamento dell'elezione europea con apprensione perché Salvini è stato uno scusate cito però siamo anche in una sede di partito quindi non commentiamo è un documento del Papa ma siamo una sede del PD cioè Salvini ha detto che insomma le elezioni dell'anno prossimo saranno molto importanti per asfaltare questa legge cioè toglierla di mezzo quindi c'è un tema davvero anche di divisione io chiudo con questa riflessione io credo che la radice dei negazionismi e di chi è contro l'ambiente è la radice dell'individualismo perché per l'individualista esiste solo l'oggi e le persone che non amano l'ambiente sono le persone che non hanno una proiezione sul futuro cioè le persone che vivono sull'oggi il punto è che non possiamo più pensare solo al presente quindi una visione solidale una visione progressista quella che un partito come il partito democratico vuole incarnare è una visione che si pone in una prospettiva di guardare al domani quindi questo è l'orizzonte questo è sicuramente la bella e importante sollecitazione che arriva anche da una sicura autorevole come quella del Papa grazie Stefania per questi ulteriori spunti di riflessione ovviamente adesso Giancarlo se sei d'accordo tu che dirigi il traffico se c'è qualche intervento lasciamo spazio agli interventi con la raccomandazione di essere brevi nel senso che poi se qualche relatore vuole vuole rispondere alle sollecitazioni che voi fate abbiamo il tempo insomma di fare entrambe le cose di chiudere in un orario umano per chi domani mattina magari si deve alzare all'alba se non ci sono domande potremmo chiedere ai relatori di commentare quello che hanno sentito e fare qualche ulteriore riflessione c'è Giuseppe che chiede di parlare io non l'ho visto nemmeno io Giuseppe Giuseppe vai hai il microfono spento disattivato attivalo perché non ti sentiamo è ancora disattivato lo vedo ok vai adesso dovresti di esserci non ti sentiamo almeno io non sento non so se se sono solo io Giancarlo tu non riesci a disattivare il microfono siamo riusciti prova adesso no non ti sentiamo hai il microfono attivo ma non riusciamo a sentirti niente intanto che vediamo se Giuseppe riesce a riattivare in qualche modo se c'è qualcun altro io non vedo però le mani le mani alzate non so se come amministratore probabilmente Giancarlo non senti io non sento più nemmeno te Giancarlo devo attivare il microfono ok adesso ti sentiamo attivato non so da chi Don Angelo Don Antonio vuole fare qualche prego dicevo sul discorso della provocazione insomma il Papa parla di un pungiglione e dico vuol dire che vuole pungere vuol dire che vuole ma io credo che lo faccia più per i cristiani cioè che sono abbastanza insensibili provocare cioè richiamarli in maniera direi abbastanza vigorosa e su tematiche che non sono ancora entrate dentro come dire né l'omiletica né in parte insomma ecco dentro le discussioni o o le riflessioni no ad esempio dei vescovi dei sacerdoti della comunità ecco quindi è provocazione in quel senso nel senso che il Papa dice ma non è ancora ora dopo otto anni che vi svegliate che capiate che collaboriate con tutti gli uomini di buona volontà per difendere e per ascoltare il grido della terra il grido dei poveri in quel senso è provocazione oppure come ben diceva Carla ascoltare il grido sul pericolo nucleare quante volte il Papa interviene su questo e viene spesso non ascoltato quindi in questo senso è provocazione un richiamo forte a ritrovare le ragioni della fede per entrare nella storia da persone che la vogliono trasformare secondo una logica umanizzante e una logica che sia in linea con la pace la giustizia il disarmo e la convivenza pacifica tra i popoli e il rispetto della natura con cui siamo profondamente interconnessi grazie 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 scusami io Davide posso Mario e Davide entrambi siete partiti ok facciamo prima Davide se vuoi no no prego prego non ci mancherebbe ok allora prima Mario e poi Davide no io vorrei portarvi l'esperienza di questi quattro ultimi anni dove io in particolare un gruppo molto vasto quasi 300 persone dentro l'associazione che è nata a Milano Laudato Si ha portato nelle scuole i contenuti di tre temi fondamentali uno il cambiamento climatico l'altro lo spostamento dei popoli le migrazioni gli scarti i rifiuti e poi un discorso sulla vita e come la vita sia in effetti estranea ad esempio all'insegnamento quindi non so un circolo come il vostro prenda gli studenti e si ponga il problema di entrare nelle scuole io vi dico di questa esperienza nessuno dei ragazzi che abbiamo incontrato non so avremmo fatto 300 lezioni in tutta Italia arriva a capire il meccanismo ad esempio dell'aumento della temperatura legata alla CO2 perché a scuola non insegnano mai nulla sono fermi al massimo a Newton cioè più in là la quantistica la relatività il clima in questo contesto non è assolutamente una risorsa di cui gli studenti possono in effetti farsi carico eppure loro scendono in piazza leggono ma non riprendono dentro la scuola questo circuito io credo io credo che questo sia molto importante creare un circuito con le scuole e la seconda cosa che mi interessa moltissimo è quella delle comunità energetiche sono molto d'accordo con quello che dice Verdi l'esperienza crea non solo una comunità ma un rapporto con le amministrazioni locali e con la conoscenza del territorio a cui non eravamo assolutamente abituati cioè cosa dobbiamo fare con l'energia che ricaviamo nel nostro territorio cioè dove puliamo dove prendiamo le risorse e come le distribuiamo tra di noi e se diminuisce come è capitato in due occasioni che noi abbiamo seguito il costo della tariffa poi di fatto il comune decide in un'assemblea in cui partecipano tutti quelli della comunità energetica di comprare è capitato a questo a Melendugno di comprare i libri per gli studenti di scuola media e di darli gratis cioè c'è una connessione formidabile tra il risanamento del mio territorio il governo dell'energia in forma comunitaria e poi un utilizzo che viene di nuovo dal basso indicato in maniera coerente e credo che questo sia così scuola e comunità energetica io poi sul nucleare vi farei perdere troppo tempo ma vi assicuro che questo governo ha intrapreso una strada assolutamente non come si può dire sta creando le condizioni per partecipare a la coalizione in Europa che dovrebbe rilanciare il nucleare entro dieci anni con i reattori i piccoli reattori veloci ecco anche su questo stiamo molto attenti insomma perché le comunità energetiche eventualmente possono utilizzare le fonti locali o mettersi in rete ma non mettere un reattore nucleare in tanti paesi dove poi le scorie diventano un elemento perturbante assolutamente non affrontabile scusate grazie per la riflessione Mario anche questo del nucleare sarebbe una tematica da approfondire come anche quella delle comunità energetiche e ti dirò a riguardo che avevamo già pensato di fare una serata online proprio con un focus sulle comunità energetiche perché peraltro brava volevo solo dire che noi come PD stiamo insistendo abbiamo anche creato un ordine del giorno che si può scaricare dal sito da portare anche nei consigli comunali perché non sono ancora stati approvati i decreti attuativi e quindi questo è poi l'impedimento a proseguire in quel percorso che ha tutti gli elementi di positività che diceva adesso Mario Agostinelli scusa ve le dati è una tematica molto di attualità Davide sì intanto devo dire di avere come diceva Stefania prima apprezzato tantissimo questa serata per i toni per gli interventi che ci sono stati i toni pacati quasi intimi e che sono estremamente piacevoli per una per alimentare una discussione tocco alcuni punti che sono stati toccati nei diversi interventi a proposito dell'intervento fatto dalla signora Carla per dare un'idea di come può influire un conflitto bellico sul cambiamento climatico globale ho sott'occhio un grafico che dimostra chiaramente per esempio che dopo il 1945 a seguito dalla seconda guerra mondiale appunto negli anni immediatamente successivi c'è stato un rialzo della temperatura globale di 0,3 gradi centigradi che poi dopo è diminuito progressivamente negli anni successivi e poi ha ripreso con industrializzazione più più intensa però questo dà l'idea di come un conflitto bellico mondiale possa intervenire in maniera consistente su quello che è il cambiamento climatico indotto appunto dall'uomo un altro intervento quello di Mario appunto che parlava del fatto che gli studenti non sono adeguatamente coinvolti e si coinvolti soprattutto da insegnamenti mirati a riguardo di questo di questo tema sono perfettamente d'accordo con lei a San Daniele San Daniele Po che è il paesino dove sono sindaco ormai al terzo mandato così da per 12 anni abbiamo mandato il verde pubblico per esempio invece di portarlo in discarica in piazzola ecologica e quindi conferirlo poi in ceneritori e robe del genere lo abbiamo mandato ad un impianto di compostaggio ricavandone ogni anno 12.000 euro dal conferimento in pratica e questi 12.000 euro tutti per questi 12 anni sono andati ad acquistare i libri di testo fino agli studenti fino alla quinta superiore per cui quello che anche i miei cittadini non vedono non vedono tanto come beneficio in realtà secondo me è stata un'operazione di riciclo e di economia circolare dal mio punto di vista assolutamente esemplare oltre a aver messo i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici già almeno 12 anni fa tutti quanti riempiti di fotovoltaico ed oggi non abbiamo più da riempire con i nuovi progetti PNRR perché li abbiamo già riempiti prima che uscissero questi progetti quando si tratta di spiegare agli studenti queste cose a me piace colpirli con qualche numero che attrae spaventosamente la loro attenzione faccio un esempio quando inizio il mio corso di cambiamenti climatici il primo giorno per spiegare che il cambiamento climatico in atto è indotto appunto dall'uomo faccio questo esempio le riserve di carbon fossile sul nostro pianeta sono state prodotte in due periodi geologici che sono il carbonifero e il giurassico insieme questi due periodi geologici sono durati 115,2 milioni di anni ok in questi 115,2 milioni di anni il nostro pianeta ha immagazzinato la quantità di anidride carbonica che corrisponde appunto le riserve di carbon fossile si stima da studi recenti che l'uomo abbia utilizzato la metà di queste riserve intorno agli anni 80 del secolo scorso ciò significa che noi in 175 anni circa un secolo e mezzo più o meno abbiamo reimmesso in atmosfera ciò che il pianeta ha immagazzinato in 115 milioni di anni questo rende bene l'idea di come la scala di attività umana e antropica sia completamente fuori schema rispetto a quello che è il ritmo normale del nostro pianeta e questa è un'evidenza secondo me importante e sostanziale da mettere in luce quando si dice ma è vero che il cambiamento climatico è indotto dall'uomo beh tiriamo fuori i numeri e guardiamoci e poi ci rendiamo conto immediatamente di che cosa sta determinando questa cosa un'altra intervento ha parlato di sostenibilità e dell'economia locale diciamo che deve essere appunto sostenibile e non si è parlato specificatamente di economia circolare si sta facendo passare in particolar modo nella provincia di Cremona che economia circolare significa biogas cioè produrre il biogas dal mais etrinciato quella non è minimamente economia circolare cioè è una distorsione totale del termine che vuole indurci a pensare che questo tipo di produzione energetica alternativa sia di carattere ecologico ma non lo è minimamente noi stiamo ipersfruttando l'ambiente con una monocultura che necessita una grandissima quantità di acqua e lo stiamo facendo in un periodo in cui di acqua ce n'è estremamente poca abbiamo affrontato la siccità e il problema principale in questi ultimi due anni era dove andiamo prendere l'acqua per fare il secondo raccolto di trinciato cioè siamo al contrasenso totale di quella che dovrebbe essere il modo di procedere per i prossimi anni futuri in passato quando gli agricoltori scusatevi il termine tra virgolette si definivano più ignoranti diciamo rispetto ad oggi dove c'è una tecnologia avanzatissima per produrre le culture adattavano in passato gli agricoltori adattavano le culture in funzione dall'andamento del clima e delle stagioni non depauperavano il terreno facendo una rotazione delle culture oggi invece ci siamo fissati che il clima deve adattarsi alla monocultura mais questo qua non sta né in cielo né in terra quando si parla appunto di termini di antropocentrismo come si definisce anche nella laudato sì appunto del papa dobbiamo uscire da questo schema antropocentrico ed entrare nello schema ecocentrico non egocentrico ecocentrico cioè comprendere che siamo parte di un ecosistema e noi lo stiamo influenzando molte altre specie viventi influenzano il micro il microambiente il microclima in microecosistemi noi lo stiamo facendo in larghissima scala a livello globale cioè io ho visto delle carote di ghiaccio in Antartide perforate me le hanno fatte vedere con i miei occhi dove si vede chiaramente il 1890 cioè guardando una carota bianca e trasparente di ghiaccio si vede il 1890 perché c'è dentro della cenere e della cenere delle industrie europee che hanno cominciato la rivoluzione industriale per darvi un'idea di quanto sia l'impatto anche di un piccolo continente come quello europeo su tutto quello che è il clima globale per cui quando parlo di ecocentrismo intendo dire che siamo parte di un ecosistema che è di carattere globale noi viviamo chiaramente in un luogo ristretto ma questo luogo ristretto come per esempio la pianura padana riceve gli influssi da luoghi anche molto distanti la siccità che abbiamo subito lo scorso anno è stata determinata da cambiamenti che sono avvenuti sull'oceano atlantico non da qualcosa che è avvenuto solo localmente in pianura padana se guardiamo oggi il tasso di incremento di temperatura in pianura padana noi qui viaggiamo al doppio di velocità rispetto a quello che è il riscaldamento globale e per quale motivo perché abbiamo una geomorfologia del territorio che è un catino nel quale tutti gli inquinanti si fermano di noi e di conseguenza si incentiva appunto l'effetto serra indotto dall'uomo oltre al fatto che c'è un effetto serra anche di carattere naturale ma guardando alcuni grafici che stavo trattando in questi giorni quando mi si parla di ciclicità di variazioni climatiche con periodi glaciali o periodi interglaciali caldi i livelli di CO2 e di metano che abbiamo raggiunto oggi sono fuori dalla scala non ci stanno nel grafico se noi prendiamo il grafico dagli ultimi 800.000 anni arrivano i picchi più alti di riscaldamento arrivano ad un certo livello di concentrazione di questi gas serra oggi siamo al triplo di quel livello quindi non è possibile dire che si tratta di effetti naturali di variazioni climatiche del nostro pianeta no no è assolutamente un effetto indotto dall'uomo grazie Davide molto efficace quando si scende nella specifica dei dati sono davvero impressionanti molto efficace molto efficace grazie Giancarlo se io non vedo altre mani alzate ma non vorrei poi no sì ce n'è una ok venito ok vai vai venito molto rapidamente perché il tempo stringe il quanto abbiamo ascoltato è di grande spessore e importanza allora nelle scuole come qualcuno di voi sa noi da dieci anni andiamo nelle scuole nelle scuole medie a cercare di far capire cosa sta succedendo e spiegare loro che cos'è l'effetto serra e che gioco hanno i gas serra da dove vengono suscita meraviglie a volte anche negli insegnanti allora qui si apre il discorso di una materia inserita 6-7 anni fa 8 credo che dovrebbe essere l'educazione ambientale per la quale lo Stato italiano non ha poi provveduto a fornire degli insegnanti di questa materia e allora noi che siamo solamente così degli appassionati cerchiamo come possiamo ci chiamano tutti gli anni quindi questo vuol dire qualcosa di positivo ma mi lasciami dire Davide con Davide condivido tutto quello che ha detto in termini di prospettive di cosa dovrebbe fare la politica allora tu sai che dalla fine del 1800 1897 se la memoria non mi fu definito che cos'era l'effetto Serra io ho una fotocopia di un documento di un giornale del 1912 in cui il mondo scientifico avvisa la politica dicendo attenzione con questo passo di emissioni di CO2 si avrà un riscaldamento del pianeta siamo nel 1912 anche qui la memoria forse era il 14 agosto allora bisogna ricordare Aurelio Peccei 1968 il Club di Roma 1972 quel grande volume fatto che quei quattro giovani ricercatori del Midi Boston quindi la politica ha la strada molto tempo Davide da molto tempo ciò che invece ha vinto la partita è stata la legge dell'economia nella quale noi siamo inseriti a pieno titolo il piano Marshall voi siete molto giovani e non avete per esempio avuto la disgrazia di avere di sapere cos'è una guerra il piano Marshall non era un atto di generosità si trattava di rimettere in piedi dell'economia al più presto perché l'economia di un certo paese potesse vendere allora il discorso è che dobbiamo immaginare un sistema economico diverso perché quello ci ha portato dove ci ha portato economia di mercato domanda offerta e quant'altro allora concludo subito il nuovo pensiero politico Giancarlo sa che io ho qualche critica sono un esterno non sono un iscritto al PD c'è un progetto politico in ballo che verrà presentato qui a Cremona all'aula magna dell'università quel progetto quel progetto non va trascurato forse andrà modificato ma va discusso dal fronte progressista altrimenti avremo i Salvini dentro casa scusate l'enfasi grazie per l'intervento allora io sto guardando lo schermo non mi pare spero di non testare nulla non mi pare di vedere nessun altro quindi Giancarlo lascio a te la la chiusura della serata no io non sono in grado di chiudere la serata se no con i saluti con i saluti i saluti è stata una bellissima serata il video lo monteremo nei prossimi giorni lo faremo girare mi è molto mi è molto piaciuto quanto detto Stefania rispetto a questo ordine del giorno che il PD ha steso se ho ben capito questa potrebbe essere un'iniziativa che appunto assume il circolo Laura Conti inviando a tutti i nostri referenti nei comuni questo ordine del giorno chiedendo di farlo approvare il tema quello delle comunità energetiche per dare un ulteriore evidentemente contributo a questo nostro dibattito dopo di che come abbiamo visto assieme come componenti del circolo non siamo assolutamente nelle condizioni di produrre queste iniziative se non una volta al mese cercheremo di centellinare bene i temi di individuare bene i temi e uno di questi appunto che avevamo già individuato era quello di fare una riflessione sulle comunità energetiche ecco oggi il circolo è essenzialmente radicato su Cremona l'idea nostra comunque quella di radicarlo anche sulla provincia di Mantua ed eventualmente su Piacenza perché ci uniscono perché queste tre città sono unite dal fiume Po con tutte le considerazioni che indubbiamente possono essere fatte ulteriormente quindi io ringrazio tutti grazie nel senso che mia moglie che è qua dice che facciamo subito il contratto per una prossima occasione dove parleremo di nucleare molto volente e credo che sia assolutamente interessante perché poi questa cosa del mini nucleare è da approfondire siamo tutti in esperti in materia però sono sollecitazioni magari che arrivano da fuori e a cui anche noi che facciamo parte e siamo organi del partito democratico poi non sappiamo cosa rispondere quindi colgo la tua disponibilità Mario perché una serata su questa cosa secondo me sarebbe davvero molto interessante quindi bisogna vedere come costruirla ma io me la sono già puntata tra le varie un grandissimo piacere ma il piacere è ascoltarvi e sentire poi rivedere anche Stefania Giuseppe Giancarlo portate qualche ragazzo se volete io ho cinque nipoti e ho molto timore per loro ho otto ragazzi che vanno nelle scuole da noi preparati a parlare d'ambiente guarda così mi è venuto in mente noi abbiamo utilizzato le dodici ore di educazione civica e sono servite come crediti agli insegnanti che sono stati formati e come crediti anche dell'ora come orario di scuola autentico quindi noi andiamo in orario di scuola ma è dura con gli insegnanti non quelli della scuola doveva lui io ringrazio Dio ma è dura Cremona è dura su questo fronte è dura dappertutto grazie a tutti buona giornata sperata e buono studio alla prossima grazie grazie a tutti grazie ciao ciao a tutti grazie grazie molto interessante grazie grazie ciao Elena ciao a presto a presto ciao 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 ciao